Cosa significa vintage? Il termine vintage deriva dal francese antico e si usava inizialmente per indicare i vini vendemmiati e prodotti nelle annate migliori. E' poi diventato sinonimo dell'espressione dannata e l'espressione viene usata tutt'oggi per indicare un vino resopreggiato dall'invecchiamento. Nell'accezione moderna la parola vintage viene utilizzata per indicare un oggetto di culto fuori produzione appartenente ad un'altra epoca o generazione che si distingue dall'oggetto semplicemente usato perché, come il vino dannata, ha acquisito nel tempo un valore derivato dalla sua rarità e dalla sua irripetibilità. La parola vintage viene invece usata oggi principalmente nel mondo della moda per indicare capi di vestiario, bigiotteria, oggetti di arredamento d'epoca o di gusto sorpassato e de modè che evocano periodi remoti o lo stile di famosi stilisti del passato. Grazie per la visione!